Allora passo la parola a Simone Ficicchia di ultima generazione. Io sono contento di conoscerlo per la prima volta. Ho occasione di incrociare per la prima volta delle parole con coloro che sono stati messi pesantemente sotto pressione a livello mediatico in questo ultimo tempo. Io ho scritto per molti anni per dei giornali ma raramente ho visto un accanimento così violento rispetto a delle manifestazioni totalmente non violente. Mi ha molto sorpreso tutto questo per cui mi permetto di chiederti se hai voglia di rispondere a questa domanda. Che cosa provate voi? Vi aspettavate una reazione così pesante quantomeno da parte dei media? A un certo punto c'era Rete 4 che parlava di voi tutte le sere. Cioè io era veramente impressionante. Adesso parlano tutte le sere degli anarchici. Però è stato estremamente sorprendente. Prego. Grazie. Io premetto che questa sala è molto grande e io mi trovo a un metro da Nicoletta Dosio e sono molto più emozionato di quanto vorrei essere e spero di avere la lucidità necessaria per riuscire a parlare. Ma è difficile. Allora sì, assolutamente. È una cosa che non solo ci aspettavamo ma fa parte del percorso che ultima generazione ha pensato quando è nata. Noi siamo una campagna di disobbedienza civile non violenta che sta chiedendo al governo di smettere di dare soldi al fossile, a petrolio, gas e carbone. Nel 2021 abbiamo messo 41,8 miliardi di euro dei nostri soldi in fonti che uccideranno le persone delle prossime generazioni in Italia e nel mondo. E il primo passo, la prima banalità è quella di togliere questi soldi da quei settori e abbiamo portato avanti appunto questa campagna, abbiamo portato avanti delle altre richieste precise in questo anno di attività. Sono state la chiusura delle centrali a carbone, lo stop alle nuove trivellazioni nell'Adriatico, l'installazione di almeno 20 gigawattie rinnovabili. Stiamo sostanzialmente cercando di fare il possibile contro il collasso ecoclimatico. E quello che serve in questo momento è creare una conversazione su questo tema nel momento in cui sembra che sia qualcosa di nicchia, sembra che sia ancora l'ambientalismo, no? Sia da parte di quelli che sono i classici oppositori che ci aspetteremmo, sia all'interno del movimento. E quindi, certo, andare in televisione non è il fine, ma è il mezzo. E per noi è stato importante. Non è facile, umanamente, sopportare quello che è il continuo insulto, il continuo cercare di guardare il dito e non la luna, il continuo attaccare anche personalmente. E questo l'ha fatto sia al potere mediatico, sia al potere giudiziario, con alcune proposte come quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che è arrivata a me dalla questura di Pavia, e che è stata ritenuta assurda persino dal Tribunale di Milano, che ha deciso poi di rigettarla. Però questo rientra nel calcolo, questo rientra nel fatto che la repressione è qualcosa che non possiamo non aspettarci da un governo criminale, da un governo criminale così come lo sono stati alcuni precedenti, ma ancora più di altri, perché sta negando la realtà e l'urgenza della crisi climatica e ovviamente si dà fastidio. La repressione è un riconoscimento del fatto che siamo arrivati a un certo livello di disturbo anche per il potere ed è assolutamente un favore, o meglio, è qualcosa di brutto da avere sulla propria pelle, qualcosa anche di costoso, è qualcosa di difficile da affrontare, ma se affrontato nella maniera giusta è una delle chiavi per raggiungere quello che dobbiamo raggiungere, quindi per raggiungere le persone che si ribellino a un sistema che ci sta uccidendo. E uno dei modi con cui le persone possono rendersi conto è la sproporzione di questa repressione. Noi abbiamo visto appunto con questa proposta della sorveglianza speciale dalla Questura di Pavia tutti i giornali parlare di questa sproporzione e una solidarietà arrivare da più campi e questo non importa che si condividano completamente le tattiche di disobbedienza civile di ultima generazione. L'ultima generazione non è l'unico soggetto politico che sta agendo in questo momento in Italia, non è necessariamente il più figo, non è l'unico modo che abbiamo di agire, ma è importante fare un fronte comune contro questa repressione che rischia di colpire tutti e tutte proprio perché un precedente come quello della sorveglianza speciale a un ventenne incensurato che aveva fatto azioni completamente non violente significava dire qua non è più possibile parlare, non è più esprimersi contro il governo e perché appunto queste sono occasioni in cui mettersi insieme e quindi dicevo prima il riconoscimento della crisi climatica come priorità della lotta è fondamentale non tanto perché si sia appunto ambientalisti, ecologisti, perché si voglia bene al pianeta, ma perché proprio per il rispetto di tutte le lotte sociali e politiche che sono state fatte negli ultimi anni e che rischiano di essere spazzate via dalla crisi che stiamo vivendo, rischiano di essere spazzate via perché qui stiamo mettendo in discussione intanto la sopravvivenza della specie umana insieme alla sopravvivenza di tante altre specie viventi sul pianeta e stiamo mettendo in discussione lo stato di diritto, stiamo mettendo in discussione quella che sarà la possibilità per le prossime generazioni che abiteranno questo pianeta e anche questo paese in particolare di avere una situazione in cui possano garantirsi del cibo possano garantirsi dell'acqua, possano garantirsi un mondo senza delle violenze senza degli scontri per un pezzo di pane, possano garantirsi la possibilità di rimanere sulla propria terra stiamo parlando di centinaia di milioni di migranti climatici nei prossimi anni e quindi credo che questo sia appunto uno dei momenti in cui trovarsi sia a parlare e a mettere insieme delle idee ma poi anche a rivalutare le proprie priorità proprio perché tutte le lotte sociali e gli sforzi che si stanno facendo verranno perduti se perdiamo la lotta contro la crisi climatica che è chiaramente una lotta contro il capitalismo contro il sistema che ci sta portando a distruggere l'umanità e il pianeta quindi l'invito è proprio anche a agire, trovare il proprio modo di farlo mettere il proprio corpo in mezzo a questi ingranaggi che ci stanno uccidendo e chiudo anche dicendo che io e Beatrice siamo qui siamo anche disponibili a prendere contatti e appunto a parlare meglio anche sotto questo palco Posso farvi una domanda? Certo Però una risposta succinta è una strategia molto interessante alla vostra vorrei capire se come ultima generazione voi come strategia di resistenza puntate a fare queste azioni io le definisco, chiedo scusa se sbaglio il lessico di guerriglia non violenta, quindi piccolissimi gruppi che creano un disastro un disagio gigantesco alla circolazione, quelle scene che vediamo oppure è più riconducibile a delle forme di strategia tradizionali come quelle che sono anche attualmente quelle del movimento notabile di partire da un piccolo nucleo e tendere verso una massa nazionale come è stato in questo caso, visto che appunto il problema è globale No, assolutamente, l'obiettivo è il movimento di massa e questo è importante è importante anche ricordarci che abbiamo un obiettivo nazionale perché se i governi non cambiano le proprie legislazioni non riusciremo a fare nulla nei confronti della crisi tematica è importante partire da lì, dal livello più alto che riusciamo a influenzare quindi sì, è stata una scelta quella di partire anche in poche persone inizialmente proprio per dimostrare quanto anche poche persone se si mettono in gioco, se escono dalla propria zona di comfort se decidono magari di rinunciare a qualche privilegio abbiano la possibilità di creare molto disagio di creare molta visibilità di aprire una conversazione pubblica su un tema dimenticato e di incidere anche sulla vita politica del paese ma l'obiettivo non è quello di rimanere così ma tanto che appunto siamo partiti in sei siamo arrivati a 80 persone che nel corso del 2022 hanno partecipato ad azioni di ultima generazione e l'obiettivo è essere un centinaio ad aprile a Roma quest'anno grazie a tutti